Può tenere cento bellezza, altezza fisica e finezza, ma se non tiene un cuore a mietta, che ne fai quando si viecchia? Meglio tenere un scartello che essere bella e senza cuore, meglio essere brutto lì, ma che bellezza rende un cuore. Può tenere cento palazzo, barca, macchine e ricchezza, ma se non tiene umanità, che ne fai nell'aldilà? Meglio essere paziente che non tenere nessun dimentico, meglio fare una vita stiente che essere nominente. Può tenere vestiti e lusse, oro, titoli e tesori, ma se non fai carità, tu non tiene dignità. Meglio vestiti e scarpe rotte, ma con un grande cuore a mietta, meglio chi cerca carità, che un più ricca la città. Può tenere glorie e blasone, goppe in giornale e in televisione, ma se non tiene carnalità, che ne fai a celebrità? Meglio non essere nessuno e aiutare chi non ottene. Meglio un povero sconosciuto, che chi ottene e non aiuta. Può essere un ministro, un nobile o un re, ma si pensa solo a te, che razza è un uomo sì. E più uomo non morti fama, che un'autorità senza carnalità. Grazie per la visione!